è buttato questo pallone, poteva cercare di gestirla 22, adesso De Oliveira, ancora Pellegrini Pellegrini, Jonas chiude 14 secondi, sono ancora tanti 14 secondi, Vampeta chiama i suoi alla massima concentrazione Pellegrini, De Oliveira, palla sulla destra, perdono banalmente la palla a 10 secondi da giocare, potrebbe essere finita qui volevano tentare una giocata ma non si sono capiti vediamo come gestisce questi 10 secondi la marca male perché non gestisce, ne perde 3 secondi alla fine con chiamato in causa, si chiamato in causa adesso attenzione, l'ultima opportunità, un secondo e non è finita la partita non lo so, segna 0 il cronometro non è finita dice l'arbitro sentiamo il cronometro Massini angolo potrebbe essere angolo, non un secondo da giocare in linea massima, se parte il pallone è finita la partita vediamo Pellegrini palla e mezzo conclusione di Caracolini